Sono Mario Cleparli, autore del libro DECA, acronimo di Dizionario enciclopedico del calcio estruzzo, e oggi, nella diciassettesima presentazione, vi parlerò della corrosione promossa dalla carbonatazione, che è disponibile nella pagina 111 del libro. L'aria, ed in particolare l'anidride carbonica, l'ossigeno e l'umidità in essa contenuti, può provocare la corrosione delle armature, a seguito di un fenomeno denominato carbonatazione. In realtà il ruolo dell'anidride carbonica CO2 è quello di un complice, mentre i veri killer nei confronti dei ferri sono l'ossigeno e l'umidità, come è mostrato nel processo che riguarda la corrosione dei ferri d'armatura. Inizialmente nel calcio estruzzo si stabiliscono, per lo sviluppo dell'ossido di calcio, che si forma a seguito dell'installazione a feciamento, condizioni di forte basicità, con un pH che supera 13, che è particolarmente favorevole alla buona conservazione delle armature metalliche. In queste condizioni, infatti, sul ferro di armatura si forma un film di ossido ferrico impermeabile e adesivo nel substrato metallico. In questa situazione, detta di passivazione, la pellicola impermeabile di ossido ferrico impedisce all'ossigeno e all'umidità di arrivare al ferro metallico che si trova sotto il film impermeabile e pertanto impedisce la formazione di lugini. Vanno però la zona di calcio estruzzo che protegge i ferri, il copriferro, è completamente penetrata dalla nitide carbonica, la situazione cambia radicalmente. Infatti, la nitide carbonica annulla la basicità a seguito del processo di carbonatazione che consiste nella trasformazione dell'idrossido di calcio in carbonato di calcio. COH2 più CO2 è uguale a CO3 più H2O. A seguito di questo processo, la calce di idrolesi è in tutto o in parte neutralizzata ed il pH scende a valori di circa 9. Il ferro, già pH 11, perde la sua passività, si parla di depassivazione, cioè è in grado di subire la corrosione secondo la reazione che porta alla formazione di rugi. In sostanza, il film di ossido di ferro, inizialmente protettivo per la sua impermeabilità all'ossigeno all'acqua, diventa poloso ed incoerente se il pH scende sotto 11 e non è più in grado di bloccare l'accesso dell'ossigeno e dell'umidità al substrato metallico. In queste condizioni, a seguito delle trasformazioni del ferro in ugine, circa 6-7 volte più luminoso del metallo, il copriferro prima si fessura e poi viene espulso. La carbonatazione di per sé non danneggia il calciestruzzo e neppure danneggia direttamente i ferri di armatura. Essa crea solo le condizioni favorevoli al processo di corrosione da parte dell'ossigeno e dell'umidità. In altre parole, il calciestruzzo armato, conservato in un ambiente completamente pieno di alitide carbonica, potrà subire una completa carbonatazione del copriferro senza però alcun rischio di corrosione per le armature metalliche, a causa dei prodotti acqua ed ossigeno che alimentano la trasformazione del ferro in ugine. La velocità con cui il fronte della carbonatazione avanza nel copriferro segue una legge del tipo x uguale a k per radice di t, dove x è lo spessore di calciestruzzo penetrato dall'anidide carbonica al tempo t e k è una costante che dipende dalla qualità del calciestruzzo, in particolare dal rapporto acqua cemento e dal tipo e classe di cemento, ma anche dall'umidità relativa dell'aria raggiungendo un valore massimo quando questa è circa 60-70%. Come ci si può difendere dalla corrosione promossa dalla carbonatazione? Sostanzialmente con tre accorgimenti. Uno, ridurre il rapporto acqua cemento per ridurre la velocità capitale della matrice cementizia. Due, aumentare lo spessore del copriferro. Tre, impiegare acciaio zincato, che è più resistente alla carbonatazione rispetto all'acciaio normale. I primi due accorgimenti trovano riscontro quantitativo nelle normative attraverso l'imposizione di un vingolo sia sul rapporto acqua cemento che sullo spessore dei copriferro. Prima di concludere questa presentazione, vi invito ad iscrivervi alla newsletter del sito eqsrl.it per rimanere informati degli eventi organizzati. Grazie a tutti.